Micichè, l'attività della Gymnastics Club in realtà ha avuto soltanto una pausa agostana, ma a luglio avete lavorato. Possiamo quindi a questo punto tracciare un bilancio definitivo dell'anno che è trascorso e invece fare un accenno a quella che sarà la programmazione? Bilancio assolutamente positivo. Dicevi bene perché il mese di luglio abbiamo fatto il corso di ginnastica acrobatica con ottimi risultati, perché abbiamo consolidato e migliorato alcune tecniche particolari sulla ginnastica acrobatica. Il bilancio è stato, ne abbiamo parlato in una riunione, eccellente perché abbiamo preso tutti i primi posti in ambito regionale e un vice campione italiano nel mese di giugno a Pesaro e questo ovviamente era quel termometro necessario che ci serviva per capire che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Adesso abbiamo un'esibizione presso il Cineteatro Antitolo di Macchietella, per conto dell'associazione che ruotano attorno alla chiesa Santa Lucia. Il 31 domenica siamo a San Michele di Gansaria, quindi ringrazio anche l'associazione Zoo, è un'associazione culturale femminile che si occupa del movimento in qualche modo di San Michele, quindi siamo lì in quel comune e adesso stiamo preparando per la stagione 2015. Quindi questi eventi servono soltanto a scaldare i motori per ripartire poi a settembre, ci sarà una grande festa di apertura. Lei che cosa si aspetta da questo nuovo anno? Dice sempre che una vittoria arriva sempre inaspettatamente, ma in realtà è il frutto di grandi sacrifici e di lavori in palestra. Sì, la continuazione del lavoro precedente, siamo posti a alcuni obiettivi molto grandi quest'anno, che è quello di partecipare per la seconda volta ad una gara internazionale. Ci siamo candidati, quindi Gela si è candidata attraverso la nostra associazione ad organizzare a Gela nel mese di maggio una gara internazionale denominata Open Cheer. Infatti era di questo che poi volevo parlare. Ci sarà un evento che non si è mai svolto, credo in Sicilia. Sì, non si è mai svolto in Sicilia. È venuto mesi fa il presidente nazionale della federazione insieme al segretario. Hanno visto i palazzetti, hanno visto un po' la città. I sopralluoghi sono andati bene? Sono andati benissimo. L'unico piccolo neo, diciamolo così, è che ci hanno chiesto 700 posti letto, quindi abbiamo un attimo questa difficoltà nel reperirli, ma ci stiamo lavorando. E sarà un evento davvero straordinario, ma di cui daremo gli aggiornamenti nel corso dei mesi che verranno. Quasi un anno sembra tanto, ma sarà pochissimo per organizzare invece un evento di una portata incredibile. Che cosa vedremo nel corso di quell'evento internazionale? È una gara Open, quindi aperta a diverse categorie. Proprio per questo le categorie magari spieghiamo più in là. La cosa che a noi interessa di più è che quando verranno queste nazioni dall'estero, vedi la Russia e la Slovenia che nell'ultima gara a Torino erano presenti, cercare di dare e far capire che noi siamo in grado di organizzare eventi di questa grande portata. In bocca al lupo! Grazie, grazie. Grazie a tutti.